Una lettera misteriosa è arrivata dal futuro Lanciati in un'incredibile avventura nel futuro Insieme al professor Leighton e a Luke E salva la città di Londra da un terribile destino Viaggia attraverso luoghi misteriosi E incontra nuovi amici Per arrivare ad affrontare te stesso Oltre 165 nuovi enigmi E un'avventura mozzafiato Con il professor Leighton e il futuro perduto Su Nintendo DS